Bene, ci siamo, siamo a questo workshop centrato sul mondo del digitale per una ragione che chi ha partecipato questa mattina al convegno Utrade sa benissimo, non esiste più un'azienda che non possa essere integrata con il mondo digitale. Stamattina io chiedevo a chi ha partecipato al talk show come si immagina l'azienda tra dieci anni. Io do una risposta per quanto mi riguarda, io l'azienda tra dieci anni la immagino così come questa, immaginate che questa abbia quattro ruote ed è una Tesla. Cioè l'integrazione tra hardware, tra mondo fisico e mondo digitale sarà sempre più stretta, sarà sempre più importante e sempre più necessaria. Infatti il modello Tesla dimostra proprio questo, cioè in un mercato maturo come quello dell'automobile dove ormai nessuno vende più la cilindrata, i cavalli nel motore, ma vende emozioni perché non sa cos'altro vendere. È arrivato un nuovo player e Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo perché la borsa valuta le sue azioni più di quelle di tutti gli altri. E perché? Perché ha preso un hardware vecchio, ha messo dell'innovazione, ha messo un motore elettrico, ma soprattutto ha messo un sacco di software, perché senza il software Tesla sarebbe una macchina elettrica come tutte le altre. Ha rivoluzionato davvero un settore, tanto è vero che tutti stanno correndo dietro. Ora, il modello Tesla, con le dovute proporzioni naturalmente, può essere riprodotto in ogni azienda, anzi dovrà essere riprodotto in ogni azienda, dando a ciascuno l'opportunità di utilizzare la leva digitale, che vuol dire tante cose, non vuol dire avere, io ho Excel e poi ho un gestionale che mi ha dato l'amico e poi magari ho anche un altro software che viene un po' di straforo, perché spesso le aziende sono disorganizzate in questo modo. Significa invece ottimizzare le risorse e usare il digitale alla sua potenza migliore e se non lo fate voi lo faranno gli altri. Siamo qui per questo e adesso entriamo nel dettaglio con Umberto Bramani, direttore commerciale di Navlab e Giuseppe Volta della direzione tecnica, entreranno nel dettaglio per spiegare come si può, adesso il titolo sintetizza in modo un po' giornalistico, quello che è il concetto, come con il digitale si possa migliorare la redditività delle imprese. Io so che sono due rappresentanti di un'impresa a loro stessa, ma io credo che le informazioni siano, come dire, interessanti estensivamente. Prego. Da possessore di Tesla posso dirti che qualche casino te lo lascia, però ho avuto la fortuna che si caricava qua davanti e quindi riesco a tornare a Milano con tranquillità. Innanzitutto grazie della partecipazione, il nostro obiettivo è quello di raccontarvi, così l'abbiamo fatto anche in passato in altri workshop che abbiamo sempre fatto per il mondo di Utrade, una visione magari un po' più diversa, un po' più da uomini di marciapiedi, di quello che è la tecnologia che sta entrando in modo dirompente all'interno delle singole aziende. Credo che tutti abbiamo vissuto in questo momento un'evoluzione, devo dire che dal punto di vista informatico probabilmente il passaggio del Covid ha costretto molti a fare i conti davvero con una realtà che doveva essere assolutamente digitale. Ma l'obiettivo è quello appunto di raccontarvi diciamo le nostre esperienze. Quindi lo slogan come migliorare la redditività con un click è evidentemente uno slogan giornalistico, ma in effetti oggi le possibilità per migliorare anche gradualmente la propria attività diventano un fatto importante. E su questo io volevo, cosa vi dico, ok, andiamo avanti sulle slide, come... C'è una... Ah, perfetto, basta. Forse è l'altra parte, girarlo, girarlo... No, no, girarlo, ecco, così... E forse quello sopra? Clicco su quello, su quello grave, ok. Ok, perfetto. Questa è la scaletta, quindi direi che al di là dei punti che saranno, che passeranno, che ci palleggeremo un po', io e Volta la palla, cercheremo di portare in concreto quelle che sono delle esperienze che cercheremo di raccontarvi. Ed è questo. Ok. Uno degli aspetti è, in questo momento si parla sempre di rivoluzione digitale, di digitalizzazione delle aziende, e via via. E ho cercato di riportarvi una... Qualche dato da una parte, qualche visione che a un convegno mi è stato sottoposto e che mi era piaciuto e che quindi spero di condividere con voi. Da una parte c'è un'evoluzione, cioè c'è stata questa evoluzione che l'informatica ha portato, noi l'abbiamo portata negli ultimi vent'anni, dal 2000 a oggi, in cui, come vedete, c'è stato nel mondo, diciamo, del 2000, quando ormai internet cominciava a diventare una realtà. Comunque, alcuni aspetti che sono stati la musica portata nel digitale, certi giochi che erano digitali, il cominciare a relazionarsi tra... a rendere semplici le telecomunicazioni. Io ricordo che quando ho cominciato a fare l'informatico, mettere, configurare un modem per mettere su una linea telefonica che era una roba da camice bianco, da ingegnere ipertennico e che parlava oggi, i ragazzini comprano l'Xbox, l'attaccano e dialogano col mondo, giocando insieme con pochissimi click. E quindi questo è tipico del fatto che la tecnologia è diventata sempre più fruibile dai singoli. E siamo passati via via nel 2010 dove abbiamo cominciato a parlare di e-commerce e via via, si è cominciato a parlare del cloud, a oggi dove sostanzialmente, l'avete sentito oggi, ogni intervento ha portato come punto di arrivo il fatto delle analisi dei dati, del fatto di rendere più efficiente tutto, del fatto di poter rendere disponibili le informazioni a tutti, indipendentemente dal posto in cui ci sono. E quindi su questo evidentemente anche il cloud è diventato uno degli slogan estremamente importanti che fanno parte della nostra realtà. Io credo che debbano farne parte non solo come slogan ma come buonsenso per essere poi sfruttati dalle aziende per quello che servono. L'esempio che mi aveva colpito e che voglio riportare è queste tre macchine come possono essere viste in modi diversi. Il primo modo, quello classico, quello che credo sia quello di tutti, è quello di guardare la macchina, vedere che questa macchina è una macchina se può andar bene a noi o non può andar bene, quanto consuma, quanti chilometri fa, sostanzialmente in media l'italiano fa 12.000 chilometri, diciamo che ci possiamo parametrizzare sui 20.000 consuma o non consuma, la compro o non la compro, mi fanno dei finanziamenti o no ed è sicuramente il primo modo di vedere la macchina. Ma c'è stato chi invece questa stessa macchina l'ha vista in un altro modo e ha cominciato a dire ma questa macchina cosa ci posso fare? e da lì è nato un progetto diverso, qualcuno che senza essere un costruttore di macchine, senza avere delle officine, senza essere un rivenditore, si è inventato un giochetto che ha portato, questi sono dati non recentissimi, quindi sono dati di un anno fa, comunque che ha portato a un fatturato di 11,2 miliardi di dollari con 5 miliardi di transazioni su un mondo. Questo signore si chiama Uber e ha pensato alla macchina non come bene per andare in giro, non come strumento di vendita, ma ha messo una componente, il software per fare una serie di cose. E quindi, ma non è stato l'unico, perché c'è stato anche chi ha guardato la stessa cosa e ha cominciato a pensare che poteva adoperare lo stesso strumento per fare un altro tipo di attività con un altro tipo di redditività. E stiamo parlando di BlaBlaCar, quindi che attraverso un'ulteriore software, un'ulteriore modalità di approccio, ne ha trasformato un business. Quindi, la stessa autovettura che da una parte è abbastanza scontato vederlo come uno strumento per andare in giro, è stato poi pensato e sfruttato per fare delle altre cose, ma in cui l'autovettura è un di cui. quindi la modalità su cui oggi forse un po' tutti dobbiamo riflettere è che il software è diventato uno strumento che può essere utilizzato per vendere di più, per vendere meglio, per vendere delle informazioni che sono di tipo diverso rispetto a quelle tradizionali su cui ne pensiamo. E se ci fate un po' caso e se rileggete questa slide alla luce delle considerazioni che sono state fatte questa mattina, probabilmente è facile declinare questo discorso della digital transformation che continuiamo a parlarne, è stato uno slogan di noi informatici molto gettonato, ma che poi uno quando torna all'interno dell'azienda dice ho capito, ma la digital transformation poi io come la applico al mio interno. Ecco, probabilmente con un po' di fantasia e con un po' di aiuto la digital transformation ha delle opportunità che in questo momento non tutti siamo in grado di cogliere nel modo migliore. perché quindi si è dovuti perché il cloud in questo momento sta avendo il successo che sta avendo e se ne continua a parlare? Perché se voi ci pensate, abbiamo parlato della macchina che in questo momento con la guida automatica dialoga continuamente e spara una miliardata di dati per non far tamponare quando sei in autostrada e via via, ma stiamo parlando al fatto che chi ha figli sa che sono attaccati H24 per 365 giorni a scaricare immagini e a mandarsi filmati e cose di questo genere al fatto che comunque oggi lo smart office è diventato una realtà concreta per le persone che cominciano a pensare di non doversi che vivono anche le comodità dello smart working e via via ma sono infinità di dati che viaggiano sulla rete al fatto che comunque abbiamo sempre più servizi anche nel mondo dell'IoT che si trasmettono all'interno di una rete informatica il vero problema di tutta questa roba qua è che una volta forse 30 anni fa 40 anni fa il problema era avere dei dati da analizzare ed era la caccia all'informazione oggi il problema vero è che di tutti questi dati che chissà dove davvero sono e a volte sono anche resi disponibili dobbiamo cominciare a farci qualche cosa ed è importante riuscire ad accedere con degli strumenti per capitalizzare questo genere di sforzi il docente universitario oggi parlava di analisi di comportamenti di tracciabilità di certe informazioni tutta una serie di dati che in questo momento il mondo tecnologico ci sta offrendo e che dobbiamo riuscire a interpretare e capitalizzare per portarli all'interno del nostro business e per renderli disponibili in modo tale che effettivamente la nostra azienda con un click possa migliorare oggi i nuovi paradigmi non ho 300 slide finisco velocemente quindi sono solo 250 quindi i nuovi paradigmi su cui in questo momento ci stiamo confrontando parlano quindi di integrazione fra i sistemi tutti noi ormai siamo abituati a dire ma io in mobilità voglio vedere le stesse cose che vedo in azienda che vedo a casa che vedo dalle altre parti c'è un problema sentitissimo anche se non sempre così all'attenzione degli imprenditori delle aziende delle realtà che è il discorso legato alla sicurezza abbiamo visto aziende anche importantissime perdere una valanga di dati per delle disattenzioni che è una valanga di soldi che con la diciamo il problema che non sempre poi sai cos'è recuperato e quanti davvero ne hai persi di soldi su questo genere di cose in cui passatemi il termine sono degli aspetti su cui non si è stati abbastanza attenti a tenere conto di quanto è importante oggi il sistema informativo e le informazioni che ci sono all'interno dell'azienda se andate a vedere banalmente quello è successo alla regione Lazio che ha perso ma sono state se vai ad analizzarle poi in qualche caso abbiamo avuto modo di viverle da vicino dopo e di capire cosa succede sono state piccole disattenzioni che hanno fatto gravi danni il fatto che tu dici c'è lo smart working quindi non tutti avevano i pc portatili che quindi lavori col pc del figlio che si è scaricato perché a scuola gliel'hanno detto autocad gratuito ed era piratato e via via e quindi però tu hai memorizzato per comodità su google la password e via via questa roba ti ha comportato che si è aperto una finestra all'interno dei dati dell'azienda che in certi casi avevi monitorato strutturato e via via che ti creano poi il problema del crypto locker piuttosto che di altre informazioni e via via e siccome questi signori che fanno questo genere di cose sono sempre attenti a alzare il livello delle diciamo della loro abilità quindi hanno cominciato ad attaccare i backup che una volta non erano attaccati a fare tutta una serie di cose che hanno comportato una serie di problemi quindi la sicurezza diventa un altro problema che non solo il cloud in parte ti risolve ma che è un problema che tocca a tutti noi e su cui dovremmo stare attenti altri aspetti sono l'IoT e quindi diciamo il modo di interloquire io ricordo quattro anni fa abbiamo fatto un intervento in cui avevamo chiamato un professionista che ha parlato di questo genere di cose e devo dire che la platea allora uscendo diceva beh insomma tutte robe che è una figura a noi ci tocca oggi sono un aspetto quotidiano così come tenete conto che i passi che stanno facendo nel mondo dell'intelligenza artificiale sono dei passi velocissimi e estremamente importanti l'intelligenza artificiale è comunque una realtà che il cloud sta portando a disponibilità di molte persone e di tutti spiegare a una macchina se la se la orienti bene se le dai dei confini precisi da rispettare quali sono le cose su cui poi ti puoi aiutare sono oggi una realtà molto più semplice da applicare rispetto a quello che succedeva qualche anno fa qualche ultimo numero tenete conto che in questo momento la crescita in azienda del cloud è passata dal e stiamo parlando delle aziende medio piccole perché sulle più grandi i numeri sono ancora più significativi comunque è passata dal 31 al 42% quindi c'è stato un aumento del 21% con anche qua delle crescite estremamente importanti di servizi SAS PAS IAS quindi di tutti quelli che sono dei corollari che in questo momento vanno ad implementare le funzionalità nel mondo cloud l'adozione del 42% è un numero che va interpretato non è che tutte le aziende che il 42% delle aziende lavorano in cloud ma sicuramente all'interno di questo 42% diciamo che c'è un 50% che ha già adotta un cloud ibrido quindi che comincia a servirsi di servizi e di funzionalità che stanno in cloud pur non avendo delegato tutto al mondo cloud e credo che comunque questo sia un dato che possa far riflettere perché crescite così importanti sono indicative di un trend che si sta portando molto più spesso sul mercato e con una velocità che non dipende solo dai fornitori ma che è proprio il mercato che ti diventa ricettivo per questo genere di cose sempre stamattina si parlava di big data quindi si parlava di analisi delle informazioni si diceva che certe realtà grandi dovevano cominciare a fornire delle informazioni e delle analisi è chiaro che questa mole di dati per essere valutata analizzata gestita e per dare delle cose significative richiede delle enormi risorse hardware che evidentemente all'interno dell'azienda diventano difficili da potersi permettere gestire via via e quindi sotto questo profilo il cloud è una delle risposte estremamente importanti che ci possono essere date tenete conto che oggi strumenti di analisi dei dati comunque essi siano sono anche questi estremamente diventati estremamente fruibili anche per persone che non siano assolutamente o totalmente esperte e quindi sulla base di questo stanno cominciando a ridiventare strumenti di quotidiana evoluzione di quotidiano lavoro questa è la panoramica in questo momento per io vorrei dire adesso facciamo un passo in avanti lei parcheggia la sua Tesla davanti all'azienda di Cianciosi che è là che è la scuola ah ecco ci rubiamo la pallina qua fuori giusto la parcheggia e lei come dire deve spiegare come diciamo questi trend che sono assolutamente reali che ha spiegato bene anche con la testimonianza dei numeri possono essere scalati in un'impresa di minori dimensioni di come dire un'industria produttrice e qualcosa ma una realtà della distribuzione più piccola e quali vantaggi può avere subito nel passare io non so come dire come si è organizzato e sto Cianciosi perché è qua ma come si è organizzato un'azienda se ha come dire un servizio di dati in cloud o in locale o c'è il server del provider lì di fianco c'è anticipato le slide perfette di conseguenza credo che sostanzialmente il vero problema sia quello di fare dei io credo che uno dei problemi degli informatici molto spesso è quello di non sapersi calare nella realtà delle singole aziende e quindi partire con dei progetti che sono tecnicamente perfetti ma poi si scontrano col fatto che la gente deve continuare a lavorare che in certe realtà il cambiamento dei processi non è una di quelle cose che disegni sulla carta e diventano operative la mattina e devi riuscire a adattarti a questo genere di cose facendo dei passi che però siano congruenti non puoi arrivare a partire da un progetto che è piccolino perché per rispondere alle esigenze del cliente che non ha tempo per seguirti su tutto e poi arrivare al passettino dopo e dirgli eh cazzo ma non lo sapevo allora a questo punto dobbiamo rifare tutto e ricominciare da capo perché alla seconda volta l'imprenditore non ti fa più scendere dalla Tesla e ti cracca il software e te la fa girare nel piazzale quindi credo che l'aspetto vero sia quello di dire ci deve essere una strategia ci deve essere della competenza e devi riuscire ad accompagnare su questa trasformazione che è tutto fuorché facile le aziende a evolvere in modo serio continuo costruttivo su una serie di aspetti diciamo che poi parleremo di un paio di casi di studio che sono proprio anche tipici di questo lascio a te lascio a te che sei la persona più concreta e tecnica grazie provo diciamo dato questo scenario che Umberto ha descritto benissimo che comunque tutti sperimentiamo un po' anche nella vostra nella nostra vita quotidiana provo a declinarlo in maniera molto terra terra e quindi se parliamo di redditività vuol dire una differenza fra ricavi e costi quindi ridurre costi incrementare i ricavi provo a come dire dettagliarlo il primo tema del cloud è che è tipicamente una modalità che permette di modulare gli investimenti e di contenere soprattutto di contenere gli investimenti iniziali è una soluzione ottimale per le aziende che stanno partendo perché hanno come dire la possibilità di fare un piccolo investimento proporzionale alla dimensione in ogni caso sempre è un qualche cosa che mi permette di spalmare le spese nel tempo e quindi riduco gli investimenti in infrastruttura riduco gli investimenti in licenze riduco il costo di gestione dell'infrastruttura e questo è un tema che un po' è già uscito nelle parole di Bramani che mi ha preceduto gestirsi in casa il server è un lavoro che sta diventando sempre più difficile perché i requisiti di competenza tecnica aumentano quindi non basta più il cugino che è bravo con il computer ho sempre più bisogno di un servizio di alto livello diventa sempre più complicato per le aziende gestirsi internamente queste cose poi ci sono i costi nascosti cioè non li conteggio ma ci sono cioè quando la mia infrastruttura per qualche motivo si ferma perché ho un aggiornamento perché è arrivato il virus perché ho dimenticato il backup eccetera questi costi queste interruzioni di servizio si traducono istantaneamente in costi e questo diciamo nessuna infrastruttura di proprietà può darmi i livelli di servizio che sono garantiti oggi dagli operatori cloud che sono le grandissime realtà Microsoft con cui lavoriamo noi ma anche le altre se le sappiamo sono Amazon sono Google eccetera per cui danno un livello di continuità di servizio che non è raggiungibile da nessuna realtà locale e poi torno sul tema della sicurezza perché diciamo tutti siamo a tutti affamiliare il problema del virus e questo va bene chi più chi meno ci siamo andati a sbattere l'abbiamo sofferto poi c'è il tema lasciatemelo dire in maniera banale quello degli hacker che non sono più quelle cose che vediamo nel film di fantascienza per cui vanno ad attaccare la multinazionale per chiedergli dei riscatti miliardari ormai i meccanismi di questi sistemi chiamati ransomware sono gestiti in maniera totalmente diversa e vanno a toccare anche le realtà piccole quindi anche le realtà non necessariamente visibili non necessariamente con un significato come dire politico simbolico sono potenziali vittime sono meccanismi automatici che sfruttano tutte le debolezze quindi se la mia infrastruttura non ha certi livelli di sicurezza che difficilmente riesco a gestire con le competenze interne posso facilmente cadere vittima di queste operazioni che vogliono dire costi o proprio di riscatto propriamente detto ma in generale di fermo di attività di perdita di dati per cui diciamo tutto questo questo elemento di costi diretti o indiretti di fatto va a toccare la redditività per cui il motivo per cui ci si sta spostando in cloud è perché l'effetto sul portafoglio in realtà è abbastanza diretto e tangibile l'altro aspetto importante del sistema cloud è la flessibilità io ne parlavo nel pranzo prima di riprendere l'evento qui usare strutture cloud mi permette di reagire molto rapidamente al bisogno accresciuto o diminuito di risorse quindi non devo comprare un server adesso faccio l'esempio più banale per cui devo decidere ho bisogno un server grosso così un po' più grosso ancora un po' più grosso non so quanto mi servirà grosso fra due anni ok acquisto un servizio e qui diciamo l'idea della trasformazione digitale l'ha già fatta chi è passato da vendere hardware a vendere il cloud il ragionamento loro l'hanno già fatto adesso tocca noi sfruttarlo quindi compro un servizio e quindi quando ho bisogno di più risorse lo faccio semplicemente con un cambio contrattuale davvero con un click per cui cambio la configurazione che mi serve soprattutto in un momento in cui se sto crescendo vuol dire che il mio business sta correndo ho bisogno di dedicare tutte le mie energie anche mentali a seguire il mio business sicuramente non ho il tempo di mettermi lì a scegliere il server a decidere quanta RAM voglio mettere sul server quanti dischi mi servono ok quindi la soluzione del cloud è perfetta perché vuol dire che quella mi doto delle risorse che mi servono in maniera rapida anche perché se provate a comprare un server oggi con la crisi dei chip che c'è si parla di sei mesi quindi quando mi arriva probabilmente già è cambiato lo scenario però diciamo davvero con un click cambio la mia struttura senza appunto senza distrarmi dal mio core business l'altro aspetto interessante che in questo momento non riguarda il settore deal fortunatamente però la logica del cloud mi permette di gestire altrettanto bene l'espansione e la contrazione cioè mentre quando compro un server compro delle licenze una volta che le comprate sono mie e non le posso restituire quando compro un servizio posso avere bisogno oggi di risorse per dieci persone se fra un anno c'è una contrazione del mercato ne uso cinque in meno il mio canone e mia sile si riduce in proporzione quindi costi sempre proporzionare l'uso effettivo e questa capacità di seguire l'espansione la contrazione i picchi momentanei due mesi all'anno ho bisogno del doppio di risorse il sistema mi segue in queste cose l'ultimo punto è già stato detto ma arrivando da da questi quasi due anni di pandemia è ovviamente un tema ancora al centro dei nostri pensieri il cloud è particolarmente indifferente al concetto di lavoro locale e remoto quindi diciamo se sono in cloud mi viene molto comodo cioè non mi accorgo se le mie risorse lavorano localmente o da remoto perché comunque tutti si collegano a un'entità che sta al di fuori e quello che stiamo sperimentando è che comunque questo anno e mezzo rispetto al tema del lavoro locale e remoto Romai ha cambiato le regole del gioco quindi anche chi non l'aveva mai sperimentato probabilmente in maniera più o meno ampia il tema di permettere e garantire modalità di lavoro da remoto sa che è sul tavolo da questo punto di vista è abbastanza evidente che le soluzioni cloud mi danno la giusta flessibilità se parliamo del lato dei ricavi le cose forse sono un po' meno intuitive perché ovviamente i clienti quando scelgono i nostri prodotti i nostri servizi non ci vengono a chiedere se abbiamo un ERP in cloud oppure no però però è comunque vero che i prodotti e soprattutto i servizi che offriamo e qui credo che un tema che è uscito in mattinata è che ormai tutti ci stiamo spostando più verso il concetto di servizio integrato che non è il prodotto in sé allora in particolare i servizi quelli si risentono di com'è la mia infrastruttura di gestione delle informazioni tutti ormai anche chi vende oggetti in realtà gestisce grandissime quantità di informazioni e allora l'infrastruttura tecnologica che ho dietro è assolutamente importante per gestire bene le informazioni in particolare c'è il problema di dare risposte in tempo reale perché ormai tutti ci aspettiamo risposte in tempo reale siamo abituati a farlo come clienti individuali perché siamo diciamo viziati da questi grandi player come come Amazon per cui siamo abituati a dire voglio questo clicco c'è non c'è in quanto tempo mi arriva e questo tipo di aspettativa la ribaltiamo anche nella nostra vita professionale e quindi saper dare quel tipo di risposte in tempo reale presuppone dietro un'infrastruttura solida e ben organizzata l'altro aspetto è che ho la necessità di sfruttare tutti i canali possibili di comunicazione e diciamo qua parliamo essenzialmente di commercio elettronico in tutte le sue varie declinazioni e chiaramente il commercio elettronico è un qualche cosa che vive su internet il compagno ideale del sistema di commercio elettronico è un IRP un CRM che a sua volta vive su internet perché altrimenti diciamo c'è tutta una serie di problematiche tecnologiche di sicurezza per cui stare a cavallo del mondo metà in casa e metà internet vuol dire che devo avere delle grandi porte aperte per comunicare che sono delle grandi potenziali aree di accesso e di criticità di sicurezza un altro aspetto importante sul tema dei ricavi per cui i sistemi IRP in cloud possono fare effettivamente la differenza è che mi supportano nella crescita io qui ho voluto scrivere crescita orizzontale crescita verticale e internazionalizzazione allora io quello che volevo intendere è questo crescita orizzontale per esempio quando parliamo di acquisizioni di aggregazioni di consorsi è un tema che anche questa mattina è stato diciamo sollevato più volte è chiaro che un sistema che nasce per essere già facilmente fruibile in maniera remota mi segue molto facilmente nel momento in cui devo estendere il numero di utenti per cui da una sede diventano quattro sede distribuite sul territorio aggiungo persone che lavorano così come la crescita verticale per cui io intendo una forte integrazione con i clienti e i fornitori mi dà tutti gli strumenti per rendere disponibili informazioni sulla mia azienda sui prodotti e servizi che vendono in maniera molto efficace a chi compra oppure ai miei fornitori per cui integro l'informazione anticipo le informazioni sulle disponibilità perché il fornitore mi dice quando arriverà la consegna a mia volta la giro al cliente per dire il tuo prodotto sta arrivando per cui ce l'avrai dopo domani entro le ore 14 eccetera nonché all'internazionalizzazione perché diciamo si tende a ragionare ormai su scala più che nazionale e anche qui un sistema IRP in cloud internazionalizzato è più facilmente come dire lo strumento da condividere in un scenario che vada oltre la nazione l'ultimo punto in cui diciamo i sistemi IRP ho scritto IRP ma dovrei dire IRP e CRM in cloud possono aiutare i miei ricavi è un tema classico comunque quello che il sistema mi aiuta a fare le scelte giuste cioè avere una buona visibilità dei dati avere una visione chiara di quello che sto facendo dei ricavi di quello che mi fa guadagnare quello che mi fa perdere è un presupposto per poter fare le giuste scelte imprenditoriali su questo poi ci sarà un contributo di Microsoft che vedremo mi fermo quindi in questo scenario del cloud che spero che Umberto abbia spiegato lo scenario strategico ho provato a calarlo un po' su esperienze pratiche in questo mondo noi crediamo che Microsoft sia un giusto compagno di viaggio e quindi vabbè però adesso entriamo un po' come dire più nel dettaglio perché io non so se le persone qui presenti magari sì ma magari no conoscono esattamente quali sono i meccanismi dell'Enterprise Resource Planning IRP perché c'è anche una sigla ma poi quali sono le risorse che possono offrire che può offrire questo sistema a un'azienda e collegato con questo qual è il mio ROI il mio ritorno sugli investimenti allora la sigla non l'abbiamo spiegata no la sigla non l'abbiamo spiegata io credo che l'esperienza che ho vissuto in prima persona sulle sulle aziende che seguo che ho seguito e via via ha mostrato alcuni aspetti in cui scusatemi se tento di banalizzarlo ma quando ho cominciato a lavorare che facevo rappresentanti IBM la caratteristica che noi avevamo era che tu entravi in un'azienda gli dicevi ah tu fai questa roba ah però come la fai bene aspetta che ti metto qua un sistemista che sta qua due mesi e ti fa l'abito su misura poi andavi da quello di fronte che faceva le stesse cose e gli dicevi eh ma tu le fai meglio aspetta qua che te ne metto un altro per altri due mesi perché il tuo software deve diventare personalizzato e via via e sotto questo profilo un po' tutti abbiamo cavalcato il fatto che si partiva dalla contabilità che in Italia è sempre stata incasinata da morire e che quindi partivi da lì gli ricominciavi a risolvere i problemi e poi gli attaccavi dei pezzi che hanno portato poi a risolvere quasi sempre i problemi dell'azienda e io credo che anche noi italiani siamo anche piuttosto bravi nel fare il software l'abbiamo fatto anche con delle soluzioni piuttosto buone oggi la tendenza è completamente diversa oggi tu entri nell'azienda e l'imprenditore il manager ti dice è possibile che te non fai queste robe qua io cosa faccio di diverso dagli altri ma dice però in effetti tutti i rampichi sui muri gli altri no ma figurati se non c'è nessuno che non fa queste cose figurati se nel mondo non è no ma io voglio lo standard perché tutti hanno capito che poi gli aggiornamenti e via via sono tutte le cose che diventano importanti e sotto questo profilo l'IRP al di là del fatto che è internazionale al di là del fatto che se vendi in Cina e se fai un'azienda in Cina cambi un parametro e il software lo leggono in cinese e via via ha comunque un concetto di fondo nascendo da probabilmente delle culture anglosassoni o comunque americane o come sap della Germania tedesca che è quello del dire attraverso un settaggio io comunque devo ragionare con te di flussi di procedure quindi il mio problema è quello di adeguare il flusso della tua azienda e trasformarlo in qualche cosa che l'informatica riesce a fare questo aspetto evidentemente ti porta innanzitutto a dare pari di dignità all'interno dell'azienda per cui non è più il problema ti viene fuori quando il tuo contabile comincia a vedere le robe e scopri che il magazziniere non ti ha scaricato in modo giusto o che il commerciale non ha venduto nel modo giusto perché tu hai già dei blocchi iniziali per cui il magazziniere si ferma al magazzino piuttosto che vanno le cose in un certo modo quindi il flusso ti aiuta a gestire molto meglio la tua azienda in modo tra virgolette in modo costruttivo ma soprattutto hai il grosso vantaggio che siccome tutti questi flussi sono legati a dei settaggi l'evoluzione della tua azienda non è più legata al programma che hai fatto fare con la software house che per quanto brava comunque l'aveva fatto dieci anni prima non si ricordava credo che tutti qua abbiano il problema ma c'erano anche i miei clienti che dopo dieci anni rimetti in mano una roba un po' sui elettorotti metti la mano all'iva fuori posto quell'altro perché per quanto tu abbia lavorato bene o via via comunque ci sono delle cose che hai fatto quella notte perché era necessario farlo di corso e soprattutto cambiano i modelli di fruizione del software quindi ci ritroviamo con delle esigenze le aziende sono cambiate negli ultimi dieci anni tantissimo cioè chi pensava di fare una cosa oggi la fa probabilmente ma la fa in modo completamente diverso con strutture diverse con organizzazioni diverse e via via se il software non ti aiuta su questo genere di cose non ti aiuta a crescere e a facilitare questi aspetti il problema vero è che dopo un po' tu ti ritrovi spiazzato e soprattutto le esigenze che tu hai e che fanno parte di questi prodotti che invece sono integrati è che un pezzetto per volta tu devi riuscire a fare dei passi in più che ti portino a risolvere quel tuo mal di pancia ma in modo costruttivo questo è un po' quello che io vedo come la differenza oggi fra un ERP e un prodotto di tipo più tradizionale piuttosto che un gestionale qualsiasi ed è chiaro che è un qualche cosa che ti costringe a fare un salto di qualità perché è quello del dire devo andare a rivedere il mio processo quindi in quel momento magari discopri che tante cose che hai ereditato perché si è sempre fatto così o perché il tema della formazione è un altro tema importante ma molto spesso tu hai formato le prime persone che poi hanno formato un po' meno quelle dopo poi c'è stato quello che è andato via di corsa e quello dopo hai imparato a fare il 30% di quello che faceva l'altro e quindi tu finisci col fare delle cose che non hanno nessun senso ma perché la storia della tua azienda ti ha portato a fare questo genere di cose traduciamo in pratica sostanzialmente un ERP integrato poi in cloud che significa semplicemente dove allocare i dati non in locale ma come come per gli sms diciamo sono da un'altra parte significa in un'azienda che ogni attività ogni area di business immette dei dati il magazziniere pigerà un tasto quando sposta un prodotto la contabilità avrà questo 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 segnale che il prodotto è stato venduto eccetera eccetera fino a arrivare come dire alla cassa ma con una congruità quindi il magazziniere quando sposta queste cose è all'interno di un flusso che è monitorato in qualche modo e quindi se lo sposta in modo sbagliato la procedura già ti dice guarda che lei e si ferma lì quindi quando arriva alla contabile o alla gestione acquisti o allo spedizio o quello che ti assembla il bancale l'errore è già stato risolto a monte perché se no non sarebbe arrivato lì due domande e poi passiamo se avete delle cose da chiedere uno come si integra un ERP un sistema del genere con un'attività di e-commerce beh cominciamo con questa intanto ma allora il tema dell'e-commerce come dicevo prima è il presupposto è di avere di riuscire a rendere disponibile su internet informazioni sui prodotti come prezzo caratteristiche e soprattutto quello che è variabile nel tempo la disponibilità quindi in questo senso avere l'ERP gestisce quello che è ovviamente la movimentazione la parte contabile gli acquisti e le vendite però quando penso all'e-commerce il punto critico del sistema è di riuscire a dare la disponibilità effettiva in tempo reale quindi è chiaro che devo avere un sistema costantemente aggiornato ok se è in cloud meglio perché dialoga in maniera ottimale con i sistemi di vendita elettronica e in questo senso è il presupposto per l'e-commerce quindi avere dietro un ERP è quasi un requisito perché se dietro l'e-commerce devo avere come dire l'alimentazione manuale l'aggiornamento con qualcuno che va a vedere in magazzino se il prodotto c'è davvero quel sistema crolla dopo mezza giornata anche perché poi in un certo senso il presupposto dell'e-commerce ha anche una disponibilità 24 ore su 24 7 giorni su 7 e anche qui non posso più fare affidamento sulla presenza di persone che in qualche modo in maniera manuale mi danno mi tengono aggiornato il dato ok quindi l'ERP è la base minima anche solo per pensarci all'e-commerce ecco seconda domanda si parlava questa mattina e mi sembra che lo accennasse Bellini del Made diciamo l'integrazione perché qui stiamo parlando di ERP quindi ognuno immette dei dati alla fine questi dati diventano un tesoretto un gruzzolo dell'azienda a disposizione dell'azienda che poi possono essere sfruttati perché analizzandoli con opportuni algoritmi parola che adesso va di moda ma diciamo software per semplificare possono dare delle indicazioni su quali sono i trend del business aziendale ecco come si integra un ERP oppure come dire come può essere arricchito da un processo di business intelligence quindi diciamo di analisi che illustra magari con dei quadranti l'andamento del business dell'azienda allora in questo ambito il tema della business intelligence o meglio anche dell'intelligenza artificiale dei big data è un po' una provo a a dirlo con parole spero spero comprensibile il tema è di capire se il dato in sé analizzato con meccanismi automatici possa far emergere delle caratteristiche delle correlazioni quindi dei collegamenti fra dati che in qualche modo non avevo non avevo intuito cioè io imprenditore vendo il mio prodotto vendo i miei servizi e alcune cose le so per esperienza alcune cose me le aspetto però nel momento in cui questi dati li carico su un sistema e lì posso pensare di far girare dei software che li analizzano come dire in un certo senso alla cieca ma in maniera molto approfondita il concetto è di capire se ci sono delle correlazioni che a volte saranno correlazioni come dire attese cioè che in una certa regione si compra di più un certo prodotto e in un'altra si compra meno e magari è un fatto tradizionale che in un settore è perfettamente noto ma altre volte invece da queste analisi automatizzate possono uscire informazioni sorprendenti e interessanti e questo è diciamo e questo è qualche cosa che faccio se il dato l'ho già caricato in un sistema dove poi qualcun altro appunto nel nostro caso come dicevo prima Microsoft ci mette all'opera dei sistemi di intelligenza artificiale che li analizzano come dire con un approccio che è completamente diverso da quello umano nel senso che è come dire molto più di massa molto più approfondito e vanno a volte a scoprire anche informazioni sorprendenti qualcuno ha delle domande delle cose da chiedere tutto chiaro volete aggiungere qualcosa no ma direi che secondo me noi abbiamo in questo momento abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti che erano legati a questo tipo di mondo ripeto credo molto importante il fatto del ragionare con un'organizzazione una struttura e dei supporti informatici che ti aiutino a costruire la tua soluzione un esempio che facciamo spesso è quello di dire che se tu hai la base del Lego su cui poi ci metti dei mattoncini che sono tutti omogenei e ti puoi costruire con gli stessi pezzi delle figure che sono completamente diverse i mattoncini che sono proprio il paragone esatto e questo secondo me è l'aspetto che nelle aziende io credo oggi tu debba portare quindi con un amico ieri sera parlavamo di CRM della difficoltà di far cioè tu oggi senti il docente universitario e ti dice ma senza CRM cazzo non hai capito niente come aspetto perché l'analisi e via via poi questa roba devi reclinarla col fatto che tu hai una rete di agenti e quegli agenti gli secca a mettere queste informazioni e via via quindi è chiaro che se tu che sia poi utile ragionevole e necessario lavorare col CRM lo credo di essere di tutti ma se anche qua non riesci a calarlo un po' per volta dando delle opportunità dando dei servizi dando delle commodities alla gente che lo adopera per cui progressivamente questi capiscano allora poi dopo diventa facile che queste cose siano alimentate da chi diciamo inizialmente ti ostacolava questo genere di di aspetto di cose e questo è un po' il concetto che noi dobbiamo riuscire a portare all'interno delle aziende dove da venditori di software credo che anche noi abbiamo subito come detto questa mattina in modo chiaro delle evoluzioni oggi noi non vediamo più un prodotto questo prodotto è una commodity che chiunque si scarica da qualche store di qualche tipo noi oggi dobbiamo riuscire a vendere della consulenza per aiutare le aziende a diventare brave nell'utilizzo di queste cose e portarle il discorso del trappano con i buchi quindi devi aiutare la persona a fare i buchi non devi vendergli il trappano oggi anche le marginalità di chi vende software non sono più legate al fatto dell'ho venduto un pacchetto ho venduto un pacchetto praticamente ho coperto i costi oggi ma il discorso è che se tu poi riesci a dare del valore aggiunto all'azienda perché possa crescere su queste cose hai fatto il tuo mestiere ed è un po' la sfida che noi di Navlab stiamo cercando di portare sul mercato bene se non avete altre curiosità io direi che possiamo concludere gli argomenti che sono stati trattati io direi che ringraziamo tutti della pazienza e naturalmente siamo a disposizione per qualunque tipo di chiarimento dubbio propensità o via via sul sito Navlab trovate tutte le informazioni del caso e siamo a disposizione per qualunque approfondimento grazie a tutti grazie 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 a tutti 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 Grazie.